Ragazzi allora, Marocco in quarti finale, sorpresa, prima sorpresa ho detto che io pensavo che la Spagna la sfangasse sui supplementari, però ho detto che sarebbe andata sui supplementari questa partita qua, non credevo ai rigori. Quindi brutta partita, brutta Spagna, a parte il palo là di Sarabia, anche là il discorso di mettere i rigoristi, cioè mette i giocatori solo per battere i rigori, già che i rigori sono una pressione allucinante, tu li metti e hanno più pressione rispetto agli altri, perché lì sanno di essere messi solo per il calcio di rigore. Sta roba l'abbiamo criticata all'Inghilterra l'anno scorso, ma anche la Spagna, è una cazzata questa che ha fatto lui in Selinke, basta fare queste stronzate, lascia William, fai battere i rigori a lui, che magari lo butta dentro. Sono veramente stronzate, poi sbaglia anche l'esperto Busquets, che per me ormai è in fase calante, deve ritirarsi al calcio pure quello, però veramente siamo arrivati a queste pagliacciate. Poi i rigori sono, non c'entra un cazzo, non c'entra la tecnica, i rigori sono 70% testa, 30% tecnica, punto. Conta come arrivi a livello di testa ai calci di rigore, non a livello tecnico, ok? E il Marocco è arrivato ai rigori su Londra, l'entusiasmo, la Spagna invece con la paura di non vincere. Quando giochi una partita con la paura di non vincere, quando tiri i rigori con la paura di sbagliarli, li sbagli. Come è successo la Juventus a Manchester nel 2003, punto. Entrato Morata, come vi dico, non c'entra se uno parte titolare o subentra. Se uno è in giornata, è in giornata dal titolare o da subentrato, se no non lo è, punto. Infatti oggi è entrato, per me è male Morata, anche se comunque a livello... Io avrei levato Ferran Torres e non ha senso, avrei messo Morata attaccante e ha senso a destra, perché per me ha senso, dà più brio a livello tecnico, più imprevedibilità rispetto a Ferran Torres, che per me è un giocatore che, ragazzi, se Guardiola l'ha scartato, un cazzo motivo ci sarà, secondo me, no? I due giovani, Pedri e Gavi a centrocampo, non hanno fatto una buona partita. Pedri ha fatto qualcosa, sicuramente, ma all'ultimo... Ragazzi, in questo momento qua mi sembra il Dybal e il centrocampo, cioè fa tutto bene a parte l'ultima giocata. Ok, quindi questa cosa sicuramente non buona. In difesa mi lasciava sempre qualcosa di dubbio, la Spagna. Per il resto, ripeto, i rigori poi sono stati battuti con una sufficienza, con un'arroganza. Allora, io sono dell'idea che i rigori vanno battuti, tu devi prendere... Come il portiere prende un angolo? Tu devi prendere un angolo, devi prendere un angolo e tirarla il più forte e il più basso possibile, perché ovviamente se la alzi poi rischi che vada alta, ma punti un angolo. Basta queste giocate di guardare dove cazzo va il portiere, tutte queste cazzate qua, che poi li avete sbagliati tutti, tutti i rigori battuti così li avete sbagliati. Sbagliati. Punto. Vabbè, comunque, ultimo quarto di finale, quindi Marocco e la vincente tra Portogallo e Svizzera, che per me sarà il Portogallo. Vedremo, due su tre me ne sono andate a fanculo, come avevo detto Germania e Spagna, sono andate a fanculo, vediamo se anche il Portogallo se ne va e poi vedremo, anche perché io ho fatto quel pronostico ma senza guardare le partite. Senza guardare le partite è molto più difficile, perché non ti fai un'idea. Poi è ovvio che rimango, io sono testardo, rimango su quell'idea lì, non è che cambio a seconda di quello che vedo poi. quindi vedremo, vedremo, vedremo adesso cosa farà il Portogallo stasera. Detto questo, buona serata a tutti, ci vediamo alla prossima, come sempre. E niente. Ciao a tutti e sempre comunque anche in questi momenti qua, in questo marasma generale mediatico, sui social, sempre comunque fino alla fine, forza Juventus, forza Juventus. Noi non abbiamo spagnoli, vero? No, noi non ne abbiamo, quindi non ce ne frega un cazzo. Ciao a tutti e alla prossima.